Un tragico incidente stradale ha sconvolto le comunità di Agropoli e Capaccio Pestum nella mattinata di domenica. È successo intorno alle 4, un uomo di 45 anni residente ad Agropoli ma originario di Nocera Inferiore ha perso la vita in uno scontro violento tra il suo piaggio Beverly e una lancia Ypsilon. Il sinistro è avvenuto in località Licinella, lungo la strada provinciale, nei pressi dell'intersezione con via Cimabue. L'incidente è stato caratterizzato da uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al Centauro. Il conducente dello scooter, stando alle prime ricostruzioni, ha impattato violentamente contro l'auto finendo rovinosamente sul marciapiede dopo aver sfondato il parabrezza dell'Ypsilon. Nel frattempo la vettura ha centrato un lampione posto a margine della carreggiata causando ulteriori danni al veicolo. I soccorsi sono stati tempestivamente allertati. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'impatto è stato così violento da causare la morte immediata del conducente dello scooter Luca Canale. La vittima, originaria di Inocera, resideva alla periferia di Agropoli. Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso per stabilire le cause precise degli incidenti e accertare eventuali responsabilità. La salma dell'uomo è attualmente presso la sala mortuaria dell'ospedale di Eboli per l'esame esterno da parte del medico legale. Già in giornata potrebbe essere liberata per permettere le sequie.